Sarebbe partito dal settore Confetti l'incendio che si è sviluppato all'interno della fabbrica Ambrosio a Viale Vecchia nel comune di Striano. Un'alta colonna di fumo nero e tossico si è sprigionata dal rogo ed è risultata visibile in tutta l'area nei comuni limitrofi fin dai primi momenti dell'incendio. Sul posto si sono recati i vigili del fuoco con i carabinieri della locale compagnia. I mezzi di soccorso hanno immediatamente attivato le procedure di spegnimento delle fiamme che hanno avvolto l'intero corpo di fabbrica dell'industria dolciaria. A causa dell'imponenza del rogo si è valutata l'ipotesi di evacuare le abitazioni vicine e anche alcune fabbriche in zona. Secondo i primi accertamenti non risulterebbero feriti tra i dipendenti. Al momento dell'arrivo dei soccorsi tutti gli operai e gli amministrativi presenti nella fabbrica erano all'esterno della struttura. Non sono ancora note le cause che hanno innescato le fiamme e per questo motivo la magistratura potrebbe avviare un'indagine d'ufficio per scongiurare ipotesi dolose.